Assessore, Riccione è presente qui a Saludezzo in una versione spettacolare, 25 anni di storia e soprattutto una città voltata al turismo sportivo. Riccione sia per gli impianti che per il turismo sportivo da strada come il ciclismo è la città ideale sia per noi ricconesi ma anche per i nostri ospiti che accogliamo sempre calorosamente con delle strutture all'altezza della situazione. Oggi è una giornata meravigliosa per fortuna e questo qui per me è uno spettacolo. Avete fatto tanto in questi anni per promuovere anche i Bike Hotel, questa è una grande soddisfazione per voi, soprattutto in un periodo dove c'è stata anche la pandemia, adesso c'è stato un problema con l'alluvione, comunque Riccione c'è sempre. Riccione c'è sempre, i Bike Hotel ci sono sempre e Riccione a fianco dei Bike Hotel organizzerà sempre più iniziative volte al ciclismo e al cicloturismo. Colgo l'occasione per invitare tutti alla nostra Gran Fondo del 2024 che si terrà il 24 marzo a seguito della storica Coppie Bartali e una novità di quest'anno a mio modo di vedere bellissima è la partenza della Pantani che sarà il 16 settembre a Riccione con arrivo a Cesenatico. Grazie allora. Grazie a voi. Grazie a voi.